Nuovo PEI e Pratiche di Progettazione è un'iniziativa formativa che accompagnerà i partecipanti, docenti appartenenti a diversi ordini di scuola. Mediante tre incontri webinar di due ore ciascuno, i corsisti si immergeranno nell'analisi e nella stesura del nuovo piano educativo individualizzato, rivolto ovviamente agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104, in prospettiva biopsicosociale. Questo percorso formativo per rispondere alle esigenze di tutti i docenti partirà proprio dall'analisi dei casi concreti, si soffermerà sull'importanza dell'osservazione dell'allievo e del contesto e partendo dall'analisi dei bisogni si passerà alla definizione degli obiettivi di lavoro, delle attività e si rifletterà su quali approcci metodologici e su quali strategie sarà opportuno concentrarsi proprio per svolgere bene il proprio operato in un'ottica inclusiva il più possibile.